Il comune di Foggia si costituirà parte civile nel processo decimazione bis che vede imputate 44 persone accusate a vario titolo di estorsione e usura ai danni di imprenditori foggiani, la cui udienza preliminare si terrà lunedì prossimo nell'aula bunker di Pitonto. Il comune, che nella prima udienza, quella del 16 settembre, non si era costituita parte civile, lo potrà fare la prossima settimana, proprio perché l'udienza è stata rinviata. Una vicenda, quella della non costituzione di parte civile nell'udienza di settembre, che stando ad alcuni, avrebbe accelerato la rescissione della collaborazione con il segretario generale Gianluigi Caso. Una dimenticanza stigmatizzata dalla stampa e da alcune associazioni antimafia, come Libera. Il comune di Foggia, si legge nella determina, non è stato individuato a quale parte offesa, in ordine ai reati contestati sia nel decreto di richiesta di rinvio a giudizio sia in sedia di fissazione di udienza preliminare. Tuttavia, continua la determina, è interesse prioritario di questa amministrazione poter intervenire nel procedimento denominato decima bis, trattandosi di un procedimento penale riconducibile a quelli per reati di mafia, estorsione e racket, che destano un particolare allarme sociale. La costituzione di parte civile, al di là della mancata individuazione del comune quale parte offesa e della mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza, risulta ancora più cogente, continua ancora la determina, stante il recente scioglimento del comune di Foggia. I commissari straordinari hanno conferito l'incarico legale esterno all'avvocato Ciro Massimo Piacquaddio. Il 4 ottobre prossimo, oltre al comune di Foggia, anche la provincia farà istanza di costituirsi parte civile nel processo.